Qualche giorno fa l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei presunti responsabili del tripice omicidio di Cassano, le indagini però proseguono e nelle ultime ore è stata riesumata la salma di Giuseppe Iannicelli, il nonno del piccolo Cocò, entrambi uccisi nell'agguato insieme alla compagna di Iannicelli, ma l'esito degli esami, secondo indiscrezioni, potrebbe non essere compatibile con l'ipotesi che i killer possono essere stati in due. L'intenzione degli inquirenti era infatti quella di cercare di individuare tracce di altri proiettili eventualmente sfuggite all'epoca, ma non sarebbe emersa nessuna novità sostanziale, dunque se da un lato sono diversi gli elementi che fanno pensare che i sicari possono essere stati in due, l'utilizzo di una sola arma farebbe pensare ad una soluzione diversa. Secondo gli inquirenti, inoltre, sulla scena del crimine si trovavano almeno quattro persone. Gli investigatori, infine, ritengono di aver identificato anche il mandante del triplice omicidio, ma ancora non ci sarebbero elementi sufficienti per eseguire l'arresto.